Fa discutere il possibile taglio delle piante di via Rosmini a Domodossola. Le perizie fatte effettuare dall'amministrazione comunale hanno evidenziato 10 piante contro un cocavo e quindi pericolose, più altre 5 comunque non in buone condizioni. Da qui la proposta di tagliarle tutte per una riqualificazione complessiva dell'area, ma questa operazione non è imminente e neppure certa. L'assessore domese al verde pubblico Franco Falciola spiega che verrà effettuata anche una verifica strumentale sulle piante in esame per avere un ulteriore passaggio tecnico. Le perizie precedenti sono state basate su un controllo visivo e un'analisi esterna. La nuova analisi darà importanti indicazioni sullo stato effettivo di consistenza e di possibile durata degli alberi. Se dovessimo mai tagliarle avvieremo un progetto per la riqualificazione dell'area, apporteremo in uno dei prossimi consigli comunali una delibera su cosa fare, ha spiegato Falciola precisando non c'è la volontà di abbatterle, lo faremo se necessario. Le minoranze consigliari, il PD ma anche il Movimento 5 Stelle e Gianluigi Bottaro della lista Catrini criticano proprio il taglio e mancanze di un progetto. L'amministrazione Catrini aveva un progetto su quell'area, si riprende in mano quello dice il consigliere democratico Davide Bolognini. Lo stesso critica la scelta di portare la questione in consiglio comunale, parla di un regolamento del verde che consente al sindaco di decidere attraverso ordinanza che il primo cittadino si assuma le proprie responsabilità, conclude Bolognini. L'ordinanza del sindaco dovrà con ogni probabilità essere messa invece per alcuni grandi alberi del Belvedere e dell'area archeologica del Calvario. La richiesta è arrivata dall'ente di gestione dei Sacrimonti, supportata dalla perizia tecnica del loro agronomo, precisa Falciola. Si tratta di piante che già versavano in cattive condizioni, il forte vento del 18 e 19 aprile ha ulteriormente peggiorato la situazione, diventata irreparabile. Gli alberi che dovrebbero essere tagliati sono un impocastano di 28 metri, una quercia di 17, due pini di oltre 30 metri e un cedro dell'Atlante di 21 metri.